Beatrice, la figlia maggiore di Meia, non parla. In paese si chiacchiera su questo fatto strano. La ragazza è muta da quando era solo una bambina, ma non viene subito rivelato cosa le sia accaduto in tenere età. La figlia di Meia, quando era piccola, ha subito un fortissimo shock e da allora non riesce più a dire nulla. Ma ad un certo punto le anticipazioni sulla telenovela Il Segreto ci regalano un flashback del suo passato e ci fanno rivivere con Beatrice cos'è successo. Vedrete una sorta di visione, un ricordo che la giovane ragazza rivive ogni notte. Si vede una bambina seduta nel suo letto e davanti a lei un bambino che ha circa la sua età. Poi divampano le fiamme tra lei e il piccolo e improvvisamente accanto al bambino appare un uomo non ben visibile in volto che lo afferra per il collo e lo strangola davanti ai suoi occhi. Per ora non sappiamo altro. Riuscirà la ragazza a superare questo trauma, riuscirà a parlare di nuovo?